Anche Gela oggi ha festeggiato Santa Barbara, patrona della Marina Militare. Una messa è stata celebrata nella Chiesa San Francesco, una ricorrenza, un momento di coesione e condivisione dello spirito di servizio che accomuna tutti gli appartenenti alla Marina Militare italiana. Presenti le autorità civili, militari e religiose. Non vorrei chiamarla festa, visti gli ultimi eventi che ci sono stati in questi giorni, la chiamerei più una ricorrenza. Una ricorrenza di una santa, di una donna che ha immolato, che ha dato la sua vita per la sua libertà. Vorrei paragonare a questo grande sacrificio che ha fatto Santa Barbara col sacrificio di tutte le centinaia di persone che stanno morendo per la nostra libertà. Per la libertà e per il libero arbitrio che dobbiamo fare valere in questi giorni particolari. Alla funzione religiosa erano presenti tra gli altri gli ex marinai. Durante l'iniziativa di oggi, ancora una volta, attraverso uno striscione collocato dinanzi alla chiesa, è stata chiesta la liberazione dei due marò reclusi in India. Come ho fatto l'anno scorso e lo ribadisco ancora quest'anno, anche se purtroppo noto personalmente che i media non ne parlano molto spesso, anche per gli eventi di cui abbiamo parlato poc'anzi, però Girone e La Torre, ricordiamoci sempre che sono lontani dalle loro famiglie. Al termine della cerimonia religiosa, i partecipanti si sono recati presso locali della Capitineria di Porto per assistere alla benedizione di un piazzale antistante alla sede delle unità navali della Guardia Costiera, intitolato alla memoria di Fra Rocco Quattrocchi, Frate Cappuccino, scomparso qualche mese addietro.